Io vado a colpire e parlare insieme, con la stessa mano, aggancio, entro il wakigatame, da qui Ura Khingen e Guitani, inizio con le Mawashi, qui attacca con un Mawashi, esco l'assorbo e colpo in contemporanea anche per coprire la parte alta del viso, colpo alla galottine, da qui inizio il Mawashi ma su io, però a terra. Grazie a tutti.